BELLA A TUTTI RAGAZZI 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 il juggernaut dopo il juggernaut fa 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 l'ho ucciso l'ho ucciso l'ho ucciso via 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 sta sicuro? qua carica bello devo camperar non diciamo camperarla perché sennò devo giocarmela in difensivo col minimo puntato eccola la 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 fa 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 via 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 non ci posso creare dopo sull'elicottero andiamo all'elicottero oddio da che parte mi arriverà questo? oddio questa qua è una cosa da aimbot non sono citato ve lo dico però questa cosa qua il mirino precisamente sul suo corpo guarda andiamo qua aimfamme qualche kill e una due tre beh troppo me ne manco qua dai va va fa 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 più ma già distrutto l'elicottero quello neanche una kill mi ha fatto ma ti rendi conto mori 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 oddio quanta gente quanta gente troppo per i miei gusti cioè dipende se avessi un'arma con un mirino più decente forse anche buono oddio non è morto penso fosse morto dai 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 tra poi dov'è anche sciacallare però dov'è dov'è? no è andato via lo zii eccolo ok sciacalliamo no non ha sciacallato vabbè undici due un no porca di quella buona donna di tua sorella dai ma guardano che pizza oddio che mirino oddio cos'è sto mirino oddio cos'è oddio cos'è ma you serious? già ground invisibile? ma guarda lo sto fa poi devo ricordarmi ho preso il naso ecco devo ricordarmi di cambiare sempre il mirino perché sennò ossassino vero? spero di sì vediamo un po' la magno si è mosso il mirino qua c'è qualcuno allora qua c'è qualcuno me lo sento mettiamo una bolla qua fa più sono vivo all'attacco uffa eccolo ucciso 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 oddio mi sento forte mi sento forte ma non lo so allora ah là in fondo no non possiamo magari dopo faccio anche sto pureta il naso no facciamo un gameplay con il cecchino per vedere quanto sono scarso per farvi vedere quanto sono scarso sto pureta il naso pureta il naso pureta il naso ah fa più carica mia bella armetta là ce n'è uno ce n'è uno là quello là sopra non lo viva vabbè lasciamo stare povero animo sono no fa più sono un fottu è il fiammi jackie ecco ecco almeno abbiamo vinto dai dai facciamo anche il cecchino per farvi vedere quanto sono scarso almeno speriamo che sia il 30 dai 18-6 razzo di 3 lo melanteremo un po' a mio cugino dai non è stata male come prima partita con questa classe no prima no però non male poniamo l'hobby facciamo standard dominio con la classe col cecchino allora sbagliato principale precisione qua velocità carichetto dominato va bene facciamo allora per fare navi mettiamo mira stabile mettiamo su dai pro tento con assalto UAV predator elicottero ah proviamo sa mai ecco nessuno è un'altra partita ma perché fa schifo sto emblema lo cambio no è il titolo mi piace il titolo si mettacene i pochi mettiamo mettiamo il specialista di tradato dai dov'è quello che ho ah beh forse non ce l'hai tu oddio infernale mettiamo lo specialista dai 4 partite su 50 spero anche la trovi in fretta e siamo già arrivati 10 minuti quasi 10 minuti 10 minuti precisamente ora lockdown col cechino dai non è male proviamo a fare una bella partita provo a fare qui scoop sono migliorato da quell'altra partita che ho provato a fare col cechino poi siamo su Mv3 dai è anche più facile va dai se ti muovi connessione schifosa perché non si connette fa più dai muoviti vado a prendere un caffè poi torno computer fappone oh ce l'ha fatta ti posso mandare a fare serio allora proviamo a giocare un'altra partita allora dai che pizza era una vizia in faccia muoviti chi è small space dai 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 oh beh dai speriamo connettiti almeno anche se hai un'attacca connettiti per favore fammi il favore mission dai non è neanche questo qua ma oh si è connessa col cechino dai non è neanche vabbè è quasi finita questo l'avevo eh posso me l'ho ucciso allora andiamo sarò un po' arrugginito perchè da un pez che non faccio una partita su mv3 col cecchino poi su black ops 2 quando fai il drag è molto più facile solo quello ho visto e la madonna perchè non l'ha preso ecco oddio sono vivo la mob no oh l'ho ucciso l'ho ucciso me l'ho voluto una la mob ora chissà dove spuono ora mi suonano tutti qua prendiamo A dai oh fap sta raggando un pochino no volevo fare l'altro lato col mirino oh fap prendoci oh dov'è vabbè tiriamo la casa dai corri forest corri forest dai prendiamo qualcuno Oscar era da Oscar sono troppo orginito non riesco a piusare guarda guarda uo b uo b uo b dai dai qualcuno qualcuno qua mi ha perso A oh fap mezzo infarto preso allora vediamo miriamola non più coltrino prendiamo questo per sicurezza ah è qualcuno qua mi ammazza lo scommetto perché l'altra volta ve l'ho perso lo scommesso no wallie c'è wallie qua giù e io ci sto anche la larga via hit marker uh lo scoop culo via scappa da wallie scappa da wallie scappa da wallie c'è ancora la mia infiltrazione pulito eccomi qua no ma guarda io quando muori oh oh no 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 c'è wallie c'è wallie c'è wallie no non mi uccidere ti prego ti prego non mi uccidere non mi uccidere fammi questo favore ma una volta mi ho ucciso quando ero serie per la mob ho ucciso miseramente ah è vero che non è l'aerastore no come non l'ho preso che fappata oddio ho messo pure la trattata l'auto dai si giama oh fa puio ah in da col cecchino non lo mando con le altre armi lo mando col cecchino vabbè dai alcune un po' mirate però dai lasciatemi vedi una testoria oddio oddio l'ho preso oddio seconda serie ah ce l'ho ovvi oddio sono ancora seconda serie e dai devo beccare lontano che ora ce l'ho vi e mi seguo in maniera assurda dai lo so che sto un po' camperando però no non prendere ah più sto un po' camperando dai non prendetevola vediamo fa muoio oddio via via oddio non mi piace non mi piace la stanza grande elicottero e ora me lo butto miseramente giù yeee allora oddio vabbè dai 12-2 col cecchino 12-2 col cecchino dai non è male vediamo l'ultima kill lo spara spilli dimmi dove l'ha preso boh va bene ragazzi per oggi è tutto con un gameplay della classe random e una col cecchino spero che vi sia piaciuto e ricordatevi di lasciare un commento giù per le classi fate da uff ho anche sblocato l'embrema e poi dopo magari anche boh lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale bella a tutti e iscrivetevi al canale e iscrivetevi al canale